13. Quello stesso pomeriggio andai sulla sponda del lago insieme agli altri eterealchi e mostrai loro per la prima volta il mio potere. Evocai uno strato sottile di luce e lo lasciai scintillare sopra l'acqua, mosso dalle onde create da Ivo. Non avevo ancora il controllo che avevano gli altri, ma ci riuscì, anzi fu facile. Molte cose divennero facili, tutto a un tratto. Non ero più sempre stanca, né mi mancava il fiato quando salivo le scale. Dormievo sonni profondi e senza sogni tutte le notti e mi svegliavo ricaricata. Il cibo fu una rivelazione. Intere scodelle di fiocchi d'avena con soprammucchi di zucchero e panna, pesci razza fritti nel burro, grosse susine e pesche di serra, il sapore deciso e pungente della kvas. Era come se quel momento nella casupola di Bagra fosse stato il mio primo vero respiro e mi fossi risvegliata una nuova vita. Poiché nessuno degli altri Grisha sapeva che avevo fatto tanta fatica a evocare, erano tutti un po' disorientati dal mio cambiamento. Io non davo spiegazioni e Genia mi riferiva a alcune delle dicerie più divertenti sul mio conto. Maria e Ivo hanno ipotizzato che i Fierdiani ti avessero infettato con qualche malattia. Pensavo che i Grisha non si ammalassero. Esattamente, il che rendeva il tutto ancora più sinistro. Ma quanto pare l'oscuro ti ha curato, dandoti da avere il suo sangue e un estratto di diamanti. È disgustoso, dissi ridendo. Oh, non è ancora niente. Zoe ha seriamente cercato di mettere in giro la voce che eri posseduta. Risi di più. Le mie lezioni con Bagra erano ancora difficili e non me le gustavo mai fino in fondo, ma mi godevo ogni occasione per usare il mio potere e mi sembrava di fare progressi. All'inizio, ogni volta che mi preparavo a evocare la luce, avevo paura di non riuscirci e di ritrovarmi al punto di partenza. Non è qualcosa di separato da te, mi diceva brusca Bagra. Non è un animale che possa rifuggirti o decidere se venire o no quando lo chiami. Chiedi al tuo cuore di battere o ai tuoi polmoni di respirare. Il tuo potere ha il tuo servizio, perché questo è il suo scopo, perché non può fare altrimenti. A volte mi sembrava di cogliere un'ombra nelle parole di Bagra, come un significato nascosto che cercava di comunicarmi. Ma le sue lezioni erano già abbastanza difficili senza dover anche indovinare i segreti di una vecchia inacidita. Mi faceva lavorare duro, spingendomi a espandere la portata e il controllo del mio potere. Mi insegnò a concentrarlo in brevi scariche luminose, in fasci penetranti che bruciavano con il loro calore, o in lunghe cascate ininterrotte. Mi costringeva a chiamare la luce ancora e ancora e ancora, finché non dovevo neanche più sforzarmi. Mi faceva andare a lezione di notte per esercitarmi, quando era quasi impossibile trovare luce da evocare. E quando finalmente producevo con orgoglio un debole raggio di sole, lei batteva a terra il bastone e gridava. Non è sufficiente. Sto facendo del mio meglio, mormoravo esasperata. Pah! sbottava lei. Pensi che al mondo importi se fai del tuo meglio. Fallo di nuovo e fallo bene. Le lezioni con Botkin furono la vera sorpresa. Da bambina correvo e giocavo con mal nel bosco e nei campi, ma non ero mai stata in grado di stargli dietro. Ero sempre troppo fragile e malaticcia e mi stancavo facilmente, ma poiché per la prima volta nella mia vita mangiavo e dormivo regolarmente, tutto questo cambiò. Botkin mi sottoponeva a combattimenti brutali e interminabili corse nel parco. Scoprì che mi dava piacere affrontare quelle sfide. Era bello diventare consapevoli di che cosa era in grado di fare quel mio corpo nuovo e più forte. Non mi aspettavo che sarei mai riuscita a battere il vecchio mercenario, ma i Fabricator mi avevano almeno aiutato a equilibrare le forze. Avevano realizzato per me un paio di guanti di pelle senza dita, foderati di piccoli specchi. I misteriosi dischetti di vetro che mi aveva mostrato David nel laboratorio il primo giorno. Con uno scatto del polso potevo far scivolare uno specchietto tra le dita e, con il permesso di Botkin, mi esercitai a catturare la luce e indirizzarla negli occhi dei miei avversari. Lavorai sugli specchietti finché me li sentii quasi naturali nelle mani, come fossero estensioni delle dita stesse. Botkin era ancora rude e critico e non perdeva occasione per darmi dell'incapace, ma ogni tanto mi sembrava di cogliere un cenno di approvazione nei suoi lineamenti raggrinziti. Un giorno di inverno avanzato mi prese da parte dopo una lunga lezione in cui ero riuscita a sferrargli un colpo alle costole ed ero stata ripagata con un pugno alla mascella. Ecco, disse, porgendomi un pesante coltello dentro un fodero di acciaio e pelle. Tienilo sempre con te. Rimasi sbalordita, vedendo che non si trattava di un normale coltello. Era di acciaio griscia. Grazie, riuscì a dire. Nessù, grazie, rispose lui. Si toccò la brutta cicatrice sulla gola. L'acciaio ce lo si guadagna. Fu un inverno diverso da tutti gli altri. Passavo i pomeriggi assolati, pattinando sul lago, andando in slitta nel parco con gli altri evocatori. Trascorrevamo le serate di maltempo nella sala della cupola, raccolti intorno alle stufe di maiolica a bere quasse e a ingozzarci di dolci. Celebrammo la festa di Sant Nicolai con enormi ciotole di zuppa e di cucia, con miele e semi di papavero. Alcuni griscia uscirono sulle slitte trainate dai cani o dai cavalli per esplorare le campagne ricoperte di neve che circondavano ossa alta, ma io, per motivi di sicurezza, ero ancora relegata nel palazzo. Non mi importava. Mi sentivo più a mio agio con gli evocatori ora, ma non mi sarai mai trovata bene con Maria e Nadia. Ero molto più felice di stare in camera mia con Genia, a bere tè e a chiacchierare accanto al fuoco. Adoravo ascoltare i pettegolezzi di corte e ancora meglio erano i racconti delle sontuose feste al Gran Palazzo. La mia preferita era la storia dell'enorme sformato offerto al re da un conte, da cui era balzato fuori un nano con in mano un bouquet di Non ti scordar di me per la zarizza. Alla fine dell'inverno il re e la regina avrebbero dato un ricevimento a cui erano invitati tutti i Grisha. Genia affermava che sarebbe stata la festa più sontuosa dell'anno. Vi avrebbero partecipato tutti gli altri dignitari di corte e tutte le famiglie più nobili, insieme agli eroi militari, ai dignitari esteri e allo Tsarevic, il figlio maggiore del re ed erede al trono. Una volta avevo visto il principe ereditario nel parco del palazzo a cavallo di un castrone bianco grande quasi quanto una casa. Avrebbe potuto essere bello se non avesse avuto lo stesso mento sfuggente del re e occhi con palpebre così pesanti che non si capiva se fosse stanco solo estremamente annuiato. Probabilmente ubriaco, suggerì Genia, mescolando il tè. Passa tutto il tempo cacciando, andando a cavallo e bevendo, il che fa infuriare la regina. Beh, Ravka è in guerra, in effetti dovrebbe occuparsi di più delle questioni di stato. Oh, di questo a lei non importa, vuole solo che si trovi una moglie invece di andarsene in giro per il mondo spendendo montagne d'oro per comprare poni. Che mi dici dell'altro? Sapevo che il re e la regina avevano un figlio più piccolo, ma non l'avevo mai visto. Sobacca? Non puoi chiamare cucciolo un principe reale. Risi. È così che lo chiamano tutti. Lei abbassò la voce. E pare che non sia del tutto reale. Per poco non mi ha dolte di traverso. No. Solo la regina lo sa per certo. Comunque è un po' una pecora nera. Ha insistito per fare il servizio militare e infanteria. Poi si è messo a lavorare come apprendistar maiolo. E non viene mai a corte? Non ci viene da anni. Credo che stia studiando cantieristica o qualcosa di altrettanto noioso. probabilmente andrebbe d'accordo con Davide. Aggiunse con amarezza. Di cosa parlate voi due a proposito? Chiesi con curiosità. Ancora non comprendevo del tutto la trazione di Genia per il Fabricator. Lei sospirò. Le solite cose. Vita, amore, la temperatura, diffusione del ferro. Si abbolse un ricciolo rosso fuoco intorno al dito e le sue guance si colorarono di un bel rosa. In realtà possa essere anche spiritoso quando si lascia andare. Davvero? Per me sì. Le diedi un buffetto sulla mano in un gesto rassicurante. Si ricrederà, è solo timido. Forse dovrei sdraiarmi su un tavolo del laboratorio e vedere se mi salda qualcosa addosso. Credo sia così che cominciano quasi tutte le grandi storie d'amore. Lei rise e io mi sentì in colpa. Genia parlava così facilmente di David, mentre io non mi ero mai confidata con lei su mal. Questo perché non c'è niente da confidare. Ricordai severamente a me stessa e aggiunsi un po' di zucchero nel tè. Un pomeriggio tranquillo, in cui gli altri Grisha erano andati fuori ad ossa alta, Genia mi convinse a intrufolarmi nel gran palazzo e passammo ore a frugare tra abiti e scarpe nello spogliatoio della regina. Genia insistette perché provassi un vestito di seta rosa tempestato di perle di acqua dolce e, dopo averlo allacciato, mi piazzò davanti a un gigantesco specchio dorato. Non credevo ai miei occhi. Avevo imparato a evitare gli specchi. Non vi vedevo mai quello che avrei voluto vedere, ma la ragazza accanto a Genia nel riflesso era un'estranea. Aveva guance rose, capelli luminosi e... forme. Sarai rimasta a contemplarla per ore. Improvvisamente desiderai che potesse vedermi il buon vecchio Mikael, stecchino. Già, pensai con piaciuta. Genia cercò il mio sguardo nello specchio e sorrise. È per questo che mi hai trascinata qui, le chiese insospettita. Cosa intendi? Lo sai che cosa intendo? Ho solo pensato che avessi bisogno di guardarti per bene. Tutto qui. inghiotti l'imbarazzante nodo in gola ed impulso la abbracciai. Grazie, sussurrai. Poi le diedi una piccola spinta. Ora levati di mezzo. È impossibile sentirsi carine con te accanto. Passammo il resto del pomeriggio a provare vestiti e a ridacchiare guardandoci allo specchio due attività che non mi sarei mai aspettata di poter apprezzare. Perdemmo il senso del tempo e Genia dovette aiutarmi a levarmi in tutta fretta un vestito da ballo colore acquamarina e a indossare di nuovo la mia kefta. Poi mi precipitai giù al lago per la lezione serale con Bagra. Corsi per tutta la strada, ma arrivai comunque in ritardo e lei era furibonda. Le sessioni serali con Bagra erano sempre le più difficili, ma quella volta lei fu particolarmente dura con me. Controllo! Sbottò mentre la debole onda luminosa che avevo evocato baluginava sulla sponda del lago. Dov'è la tua concentrazione? Sulla cena. Pensai senza dirlo. Io e Genia eravamo state così distratte dal guardaroba della regina che ci eravamo dimenticate di mangiare e il mio stomaco stava brontolando. Mi concentrai e la luce sbocciò più luminosa, allargandosi sopra il lago ghiacciato. Meglio, disse lei. Lascia che sia la luce a compiere il lavoro per te. Tal simile al simile. Cercai di rilassarmi e lasciai che la luce attirasse altra luce, con mia sorpresa. Il bagliore si sollevò al di sopra del ghiaccio, illuminando la piccola isola al centro del lago. Di più, pretese Bagra. Che cosa ti sta trattenendo? Scavai più in profondità dentro di me e il cerchio di luce si gonfiò, estendendosi oltre l'isola, inglobando l'intero lago e la scuola sulla sponda opposta. Anche se c'era la neve, l'aria intorno a noi brillava luminosa e pesante di calore estivo. Il mio corpo vibrava di energia. Era inebriante. Ma sentì che mi stavo stancando, che stavo raggiungendo il limite del mio potere. Di più, gridò Bagra. Non ci riesco, protestai. Di più, ripetè di nuovo lei. E c'era un'urgenza nella sua voce che fece scattare un allarme dentro di me, indebolendo la mia concentrazione. La luce vacillò e mi sfuggì di mano. Mi sforzai di recuperarla, ma corse via da me, facendo ripiombare nell'oscurità la scuola, poi l'isola e poi la sponda del lago. Non è abbastanza. La sua voce mi fece trasalire. L'oscuro emerse dalle ombre avanzò sul sentiero illuminato dalle lanterne. Potrebbe esserlo, disse Bagra. Vedi quanto è forte. Non la stavo neanche aiutando. Dalle un amplificatore vedrai cosa sa fare. L'oscuro scosse la testa. Lei avrà il cervo. Bagra si accigliò. Sei uno stupido. Sono stato chiamato in modi peggiori, spesso da te. Questa è follia. Devi ripensarci. L'espressione dell'oscuro si fece fredda. Devo? Tu non mi dai più ordini, vecchia. So io cosa va fatto. Potrei sorprenderti. Intervenni io. L'oscuro e Bagra si voltarono a guardarmi. Era quasi come se si fossero dimenticati della mia presenza. Bagra ha ragione. So di poter fare di meglio. Posso lavorare più duramente. Sei stata nella faglia d'ombra. Alina. Sai che cosa dovremmo affrontare. Tutto a un tratto mi intestardì. So che sto diventando più forte. Giorno dopo giorno. Se mi dai una possibilità. Di nuovo l'oscuro scosse la testa. Non posso correre rischi. Non con il futuro di Ravka in ballo. Comprendo. Dissi scoraggiata. Davvero? Sì. Senza il cervo di Morozova. Sono praticamente inutile. Oh, non è stupida come sembra dunque. Gracchiò Bagra. Lasciaci. L'entimò l'oscuro con inaspettata ferocia. Soffriremo tutti per colpa del tuo orgoglio, ragazzo. Non te lo chiederò una seconda volta. Bagra gli lanciò un'occhiata disgustata, poi girò sui tacchi e ripercorse a grandi passi il sentiero fino alla sua casupola. Quando la porta si richiuse sbattendo, l'oscuro mi osservò alla luce della lampada. Hai un bel aspetto. Grazie, bofonchiai, abbassando lo sguardo. Genia forse avrebbe potuto insegnarmi a ricevere un complimento. Se stai tornando al piccolo palazzo, vengo con te, disse lui. Camminammo per un lungo tratto in silenzio, costeggiando il lago, passando davanti ai padiglioni di pietra deserti. Oltre la distesa di ghiaccio si vedevano le luci della scuola. Alla fine non riuscì a non chiederlo. Ci sono notizie del cervo? Lui strinse le labbra. No, i miei uomini pensano che il branco possa aver varcato il confine di Fierda. Oh, dissi, cercando di nascondere la delusione. Lui si fermò bruscamente. Non penso che tu sia inutile, Alina. Lo so. Mi guardai gli stivali. Non inutile, solo non esattamente utile. Nessun griscia è abbastanza potente da affrontare la faglia. Neanch'io. Capisco. Ma non ti piace? Dovrebbe? Se non posso aiutarti a distruggere la faglia. Allora a che servo io? Per i picnic di mezzanotte? Per tenerti i piedi caldi d'inverno? La sua bocca scattò in un mezzo sorriso. Picnic di mezzanotte? Non riuscì a sorridere anch'io. Botkin mi ha detto che l'acciaio griscia va guadagnato. Non è che non sia grata di tutto questo. Lo sono, davvero. Ma non mi sento di aver guadagnato niente. Lui sospirò. Mi dispiace, Alina. Ti ho chiesto di fidarti di me e non ho tenuto fede alla mia promessa. Appariva così stanco che mi sentì subito mortificata. Non è che... È vero. Lui fece un altro respiro profondo e si passò una mano sul collo. Forse Bagra ha ragione. Per quanto io odi ammetterlo. Piegai la testa di lato. Niente sembra turbarti. Come mai lei ti innervosisce così tanto? Non lo so. Beh, io penso che ti faccia bene. Lui mi guardò sorpreso. Perché? Perché è l'unica da queste parti che non ti teme e non cerca continuamente di fare buona impressione su di te. Tu cerchi di fare buona impressione su di me? Ovvio. Risi. Dici sempre tutto quello che pensi? Neanche la metà. Allora rise anche lui. E io mi ricordai di quanto mi piaceva quel suono. Immagino di dovermi considerare fortunato, quindi. Disse. Qual è il potere di Bagra? Chiesi a un tratto. Non me l'ero mai domandato prima. Bagra era un'amplificatrice, come l'oscuro, ma lui aveva anche un suo potere specifico. Non lo so bene. Credo fosse una scuotiacque. Nessuno qui è così vecchio da ricordarlo. Mi guardò. L'aria fredda gli aveva arrossato le guance e la lampada gli illuminava gli occhi grigi. Alina, se ti dicessi che credo ancora di poter trovare il cervo, penseresti che sono pazzo. Perché ti dovrebbe interessare che cosa penso? Lui apparve genuinamente confuso. Non lo so, però mi interessa. E poi mi baciò. Accadde così all'improvviso che ebbi a malapena il tempo di reagire. Un momento prima lo stavo fissando nei suoi occhi color ardesia. Quello dopo le sue labbra premevano le mie. Provai quel familiare senso di sicurezza mentre il mio corpo cantava con improvviso calori e il mio cuore saltava in una danza frenetica. Poi, altrettanto repentinamente, lui si tirò indietro. Sembrava sorpreso almeno quanto me. Non intendevo, disse. In quel momento udimmo dei passi e da dietro l'angolo sbucò Ivan. Fece un inchino all'oscuro e poi a me, ma un piccolo sorriso giocava sulle sue labbra. L'apparat sta diventando impaziente, disse. Uno dei suoi tratti meno affascinanti. replicò all'oscuro senza turbarsi. Lo sguardo sorpreso era svanito dalla sua faccia. Mi fece un inchino, assolutamente composto. E senza rivolgermi un'altra occhiata, lui e Ivan mi lasciarono in mezzo alla neve. Rimasi lì per un po' e tornai al piccolo palazzo in stato confusionale. Che cos'è appena successo? Mi toccai le labbra con le dita. Davvero l'oscuro mi ha baciato? Evitai il salone della cupola e andai direttamente in camera. Ma una volta là non sapevo cosa fare. Suonai per chiedere la cena in camera, poi mi sedetti a pilucare dal piatto. Avevo un desiderio disperato di parlare con Genia, ma lei dormiva tutte le notti al gran palazzo e non avevo il coraggio di andare a cercarla. Alla fine mi arresi e decisi di recarmi nel salone della cupola. Maria e Nadia erano tornate dalla loro escursione in slitta e sedevano accanto al fuoco, bevendo tè. Rimasi scioccata nel vedere Sergei accanto a Marie, il braccio infilato sotto quello di lei. Forse c'è qualcosa nell'aria? Pensai meravigliata. Mi accomodai anch'io a sorseggiare il tè, chiedendo della loro giornata e della gita in campagna, ma facevo fatica a seguire la conversazione. I miei pensieri continuavano a tornare alle labbra dell'oscuro, sulle mie e all'aspetto che aveva alla luce della lanterna, il suo respiro una nuvola bianca nella fredd'aria notturna e in volto un'espressione sbalordita. Sapevo che non sarei riuscita a dormire, per cui quando Marie lanciò la proposta di andare alla Bania, decisi di unirmi. Anna Cunia ci aveva sempre detto che la Bania era un'usanza barbara, un pretesto per la gente di campagna per bere kvasse e abbandonarsi a comportamenti lascivi. Ma cominciavo a rendermi conto che la vecchia era un po' snob. Rimasi nella stanza del vapore finché riuscì a sopportare il calore, quindi andai a tuffarmi nella neve gridando insieme agli altri, per poi correre dentro e ripetere tutto da capo. Continuai a ridere e a urlare fino a ben oltre la mezzanotte, cercando di schiarirmi la mente. Quando tornai barcollando nella mia stanza, mi buttai sul letto, la pelle umida e rosa, i capelli bagnati e disordinati. Mi sentivo euforica e con il corpo come gelatina, ma ancora non pacificata. Mi concentrai ed evocai un raggio di calda luce solare. Lo feci danzare sul soffitto dipinto, sperando che il senso di sicurezza che mi trasmetteva il mio potere mi rilassasse i nervi. Ma poi il ricordo del bacio dell'oscuro mi investì come un soffio di vento e scosse la mia concentrazione, disperdendo i miei pensieri mentre il mio cuore precipitava come un uccello sostenuto da correnti incerte. La luce si disperse e rimase il buio. 14. Con l'avvicinarsi della fine dell'inverno, le conversazioni si spostarono sulla festa del re e della regina al Gran Palazzo. Era previsto che gli evocatori Griscia offrissero un saggio dei loro poteri per intrattenere i nobili e si discuteva spesso su chi si sarebbe esibito e quale sarebbe stato lo spettacolo di maggior effetto. Solo non chiamarlo spettacolo, mi avviso Genia. L'oscuro non lo sopporta. Secondo lui la festa d'inverno è soltanto una gigantesca perdita di tempo per i Griscia. Pensai che non aveva tutti i torti. I laboratori dei materialchi erano in piena attività da mattina a sera per preparare stoffe, gemme e fuochi d'artificio su richiesta del palazzo. Gli evocatori passavano ore ai padiglioni di pietra per perfezionare le loro dimostrazioni. Considerato che Ravka era in guerra e da più di cento anni sembrava tutto un po' frivolo. Ciò nonostante non ero stata a molte feste ed era difficile non lasciarsi coinvolgere dalle chiacchiere su sete, danze e fiori. Bagra non aveva pazienza con me. Se perdevo la concentrazione anche solo un momento mi colpiva con il bastone e diceva, stai sognando di ballare con il tuo principe nero? Io la ignoravo, ma troppo spesso aveva ragione. Mio malgrado pensavo all'oscuro. Era scomparso di nuovo, partito per il nord, mi aveva detto Genia. Gli altri Griscia pensavano che si sarebbe almeno fatto vedere alla festa d'inverno, ma nessuno poteva esserne sicuro. Più volte fui sul punto di dire a Genia del bacio, ma mi fermavo sempre quando avevo le parole già sulle labbra. Sei ridicola. Mi rimproveravo. Non è stato niente. Chissà quante Griscia ha baciato. E perché dovrebbe nutrire interesse per te quando in giro ci sono ragazze come Genia e Zoia. Ma se davvero stavano così le cose, io non volevo saperlo. Finché tenevo la bocca chiusa, il bacio era un segreto tra me e lui, e tale volevo che restasse. Però in alcuni giorni ci voleva tutta la mia forza di volontà per non alzarmi in piedi nel bel mezzo della colazione e gridare a tutti l'oscuro mi ha baciato. Se stavo deludendo Bagra, questo non era niente rispetto a quanto stavo deludendo me stessa. Per quanto mi impegnassi, i miei limiti stavano diventando evidenti. Alla fine di ogni lezione mi sentivo risuonare in testa le parole dell'oscuro. Non è abbastanza. E sapevo che aveva ragione. Lui voleva distruggere la sostanza stessa della faglia, respingere la nera corrente del non mare, e io non ero sufficientemente forte per riuscirci. Avevo letto abbastanza da comprendere che c'era un limite al potere di ogni griscia, perfino a quello dell'oscuro. Ma lui aveva detto che io avrei cambiato il mondo, ed era difficile accettare la possibilità di non essere all'altezza del compito. L'oscuro era sparito, ma l'apparat sembrava essere dappertutto. Si nascondeva nei corridoi e accanto al sentiero che portava al lago. Avevo l'impressione che stesse cercando di parlarmi di nuovo, ma non volevo sentirlo vaneggiare ancora di fede e di sofferenza. Stavo quindi attenta a non rimanere mai sola. Il giorno della festa d'inverno ero esentata dalle lezioni, ma andai ugualmente a cercare Botkin. Ero troppo agitata per la mia parte nella dimostrazione, e alla prospettiva di rivedere l'oscuro per rimanermene seduta in camera. La compagnia degli altri griscia non aiutava. Maria e Nadia parlavano ininterrottamente delle loro nuove kefta di seta e dei gioielli che intendevano indossare, e David e gli altri fabbricator continuavano a cercarmi per discutere dei dettagli dell'esibizione, per cui andai nella palestra accanto alle scuderie, evitando di passare per la sala della cupola. Botkin mi fece ripetere le mie mosse e mi fece esercitare con gli specchietti. Senza di loro era ancora impotente contro di lui, ma con i guanti riuscivo quasi a tenergli testa, o così credetti. Alla fine della lezione ammise di essersi trattenuto. «Non si deve colpire in faccia una ragazza che sta per andare a una festa», disse stringendosi nelle spalle. «Botkin sarà più leale domani». Gemetti ha il solo pensiero. Consumai velocemente la cena nella sala della cupola e poi, prima che qualcuno potesse fermarmi, tornai di corsa in camera, già pensando alla mia bella vasca incassata. La bagna era divertente, ma avevo avuto la mia dose di bagni collettivi nell'esercito, e l'intimità della camera privata era ancora una novità per me. Dopo essere rimasta piacevolmente immersa nell'acqua a lungo, mi sedetti accanto alla finestra ad asciugarmi i capelli e a guardare la notte calare sopra il lago. Presto le lanterne del vialetto d'ingresso del palazzo si sarebbero accese e i nobili avrebbero cominciato ad arrivare nelle loro sfarzose carrozze, una più decorata dell'altra. Sentì un fremito di eccitazione. Pochi mesi prima, una serata come quella mi avrebbe terrorizzato. Lo spettacolo, giocare a mettersi in ghingeri per mescolarsi tra centinaia di persone bellissime, vestite in abiti sontuosi. Ero ancora nervosa, ma pensavo che in effetti avrebbe potuto essere divertente. Guardai il piccolo orologio sulla mensola e aggortai la fronte. Una domestica avrebbe dovuto portarmi la mia nuova kefta di seta e, se non fosse arrivata presto, avrei dovuto indossare quella vecchia di lana o chiedere qualcosa in prestito a Marie. L'avevo appena pensato quando qualcuno bussò alla porta. Ma era genia. La sua alta figura era fasciata di seta color crema, con ricchi ricami dorati, i capelli rossi raccolti in alto sul capo per valorizzare gli enormi diamanti che le pendevano dalle orecchie e la graziosa curva del collo. «Ebbene?» chiese, voltandosi da una parte e poi dall'altra. «Ti odio», dissi con un sorriso. «Sono splendida», rispose lei, ammirandosi allo specchio. «Saresti ancora più bella con un po' di umiltà in più». «Ne dubito. Perché non sei vestita?» mi chiese, interrompendo per un istante la contemplazione del proprio riflesso, per accorgersi che ero in vestaglia. «La mia kefta non è ancora arrivata». «Oh beh, i Fabricator sono stati travolti dalle richieste della regina. Sono sicuro che arriverà. Ora siediti davanti allo specchio che ti aggiusta i capelli». Mi venne quasi da lanciare un grido di esultanza, ma riuscì a controllarmi. Avevo sperato che Genia si offrisse di sistemarmi i capelli, ma non volevo chiederglielo. «Pensavo che fossi ad assistere la regina», dissi, mentre le sue abili mani si mettevano al lavoro. Lei sollevò al soffitto i suoi occhi colorambra. «Non sono onnipotente. Sua altezza ha deciso che non si sente di partecipare al ballo stasera. Ha il mal di testa. Anche se sono io quella che ha passato un'ora a toglierle le zampe di gallina. Quindi non viene?» «Certo che viene. Vuole solo che le dame le facciano un po' di moine per potersi sentire ancora più importante. Questo è l'evento principale della stagione. Non se lo perderebbe per niente al mondo. L'evento principale della stagione». Buttai fuori un sospiro tremante. «Nervosa?» mi chiese lei. «Un po'. Non so perché. Forse perché ci sarà qualche centinaio di nobili che aspetta di vederti per la prima volta. Grazie, mi sei veramente di aiuto». «Non c'è di che», disse lei, dandomi una tirata ai capelli. «Dovresti averci fatto l'abitudine ad essere osservata ormai. E invece no». «Beh, se si mette troppo male. Lanciami un segnale. Io salirò sul tavolo del banchetto. Mi solleverò la gonna fin sopra la testa e mi produrrò in una piccola danza. Così nessuno guarderà più te». Risi e mi sentì un po' più rilassata. Un momento dopo, con ostentata non curanza, chiesi «è arrivato l'oscuro?» «Oh sì, è arrivato ieri. Ho visto la sua carrozza. Rimasi un po' male. Era al palazzo da un giorno intero e non era venuto a cercarmi e ne mi aveva mandato a chiamare». «Immagino sia molto occupato», aggiunse Genia. «È di sicuro». Dopo un momento lei mormorò. «La proviamo tutti, sai. Provate cosa?» «La trazione». «Per l'oscuro». «Ma lui non è come noi, Alina». Mi irrigidì. Genia teneva lo sguardo deliberatamente fisso sui miei capelli. «Che cosa vuoi dire?» Perfino alle mie orecchie la mia voce suonò innaturalmente acuta. Il suo potere e il suo aspetto. Bisogna essere pazze o cieche per non notarlo. Non avrei voluto chiederlo, ma non potei trattenermi. «Hai mai?» «Voglio dire, tu e lui, avete mai?» «No, mai!» Un rapido sorriso malizioso le tirò le labbra. «Ma lo farei?» «Davvero?» «Chi non lo farebbe?» I suoi occhi incontrarono i miei nello specchio. «Però non permetterai mai al mio cuore di farsi coinvolgere». Mi strinsi nelle spalle, sperando di apparire indifferente. «Certo che no». Genia sollevò le sue sopracciglia perfette e mi tirò forte i capelli. «Aia!» gridai. «Ci sarà David stasera?» Genia sospirò. «No, non gli piacciono le feste, ma guarda caso mi è appena capitato di passare per il laboratorio, perché potesse dare una sbirciata a quello che si sta perdendo. Non mi ha quasi neanche guardato». «Ne dubito», dissi per confortarla. Genia avvolse l'ultimo boccolo di capelli e lo fermò con una forcina d'oro. «Ecco!» esclamò Trionfante. Mi passò lo specchio piccolo e mi fece voltare per ammirare la sua opera da ogni angolazione. Metà dei miei capelli era raccolta sulla testa in un nodo elaborato, gli altri ricadevano sulle spalle in onde luminose. Sorrisi raggiante strinsi Genia in un rapido abbraccio. «Grazie!» dissi. «Sei uno spettacolo!» «Non che mi stia aiutando molto!» brontolò lei. Com'era possibile che Genia si fosse innamorata così follemente di una persona tanto seria, silenziosa e apparentemente insensibile alla sua bellezza. O era proprio questo il motivo per cui si era innamorata di David? Un colpo alla porta mi distolse dai miei pensieri. Andai ad aprire quasi di corsa e fui parecchio sollevata nel vedere sulla soglia due domestiche con diverse scatole in mano. Non mi ero resa conto fino a quel momento di quanto fossi preoccupata di non ricevere la mia kefta. Posai la scatola più grande sul letto e sollevai il coperchio. Genia lanciò un piccolo urlo e io rimasi a bocca aperta a fissare il contenuto. Poiché non mi muovevo, lei allungò la mano e tirò fuori dalla scatola metri e metri di seta increspata nera. Le maniche e il collo erano decorate da delicati ricami d'oro e da luccicanti perline di gioietto. «Nera!» sussurrò Genia. «Il suo colore!» «Che cosa significava?» «Guarda!» disse ancora lei con voce strozzata. Il collo del vestito era ornato da un nastro di velluto nero da cui pendeva un piccolo ciondolo d'oro. Il sole durante un eclissi, il simbolo dell'oscuro. Mi morsi il labbro. Questa volta lui aveva deciso di distinguermi dagli altri e non ci potevo fare niente. Provai una punta di risentimento, subito soffocata dall'eccitazione. Aveva scelto quel colore per me prima o dopo quella sera sulla sponda del lago. Si sarebbe pentito, vedendomelo addosso. Non era il momento di pensarci, almeno di volermi presentare al ballo nuda. Non avevo altre opzioni. Andai dietro il paravento e mi infilai la nuova chefta. Sentii la seta fresca sulla pelle mentre mi allacciavo i minuscoli bottoni. Quando uscì, Genia fece un gran sorriso. Oh, lo sapevo che il nero ti donava. Mi prese per il braccio. Vieni. Non mi sono messa neanche le scarpe ancora. Vieni, ho detto. Mi trascinò in corridoio. Poi spalancò una porta senza bussare. Zoya cacciò un urlo. Era al centro della sua stanza con addosso una kefta di seta blu scuro e in mano una spazzola. Scusaci, annunciò Genia, ma ci serve questa stanza. Ordini dello scuro. I begli occhi di Zoya si socchiusero pericolosamente in due fessure. Se pensi, cominciò a dire, ma poi vide me. Le cadde la mascella e sbiancò. Fuori, ordinò Genia. Zoya chiuse la bocca di scatto ma, con mio stupore, uscì dalla stanza senza dire altro. Genia le sbattì dietro la porta. Che cosa stai facendo? chiesi io perplessa. Ho pensato che è importante che ti veda in uno specchio come si deve, non in quell'inutile pezzetto di vetro sopra il tuo tavolo da tua eletta, ma soprattutto volevo godermi l'espressione di quella stronza quando ti avesse visto con i colori dell'oscuro. Non potei trattenere un sorriso. È stato favoloso. Vero? disse Genia con occhi sognanti. Mi voltai verso lo specchio, ma Genia mi prese e mi fece sedere al tavolo da tua eletta di Zoya. Poi cominciò a frugare nei cassetti. Genia! Aspetta solo. Ah! Lo sapevo che si scurriva le ciglia. Tirò fuori dal cassetto una boccetta di antimonio nero. Puoi evocare un po' di luce perché io possa lavorare? Richiamai una bella luce calda per Genia e cercai di essere paziente, mentre lei mi faceva guardare su, giù, a sinistra e a destra. Perfetta! Annunciò quando ebbe finito. Oh Alina, hai un aspetto da vera tentatrice. Come no? Dissi e le rubai lo specchio di mano, ma fui costretta a sorridere. La ragazza triste e malaticcia con le guance scavate e le spalle ossute era sparita. Al suo posto c'era una griscia con occhi luminosi e lucidi e capelli mossi color bronzo. La seta nera aderiva alle mie nuove forme, scivolando sulla pelle come si componesse di ombre cucite insieme. Genia aveva fatto un lavoro meraviglioso sui miei occhi, scurendoli e dandogli una forma un po' da gatta. «Gioielli!» gridò. E tornammo di corsa nella mia camera, passando davanti a Zoya, che fremeva di rabbia nel corridoio. «Avete finito?» chiese bruscamente. «Per il momento», risposì io, in tono impertinente, e Genia scoppiò in una risata per niente femminile. Nelle altre scatole sul mio letto trovammo scarpette di seta dorata, orecchini scintillanti di oro e giaietto e un manicotto di folta pelliccia. Quando fui pronta, mi studiai nel piccolo specchio sopra il lavabo. Mi sentivo esotica e misteriosa, come se indossassi i vestiti di un'altra ragazza, una ragazza molto più affascinante di me. Alzai lo sguardo e vidi Genia che mi osservava con espressione turbata. «Cosa c'è che non va?» chiesi, con imbarazzo improvviso. «Niente», disse lei sorridendo. «Sei bella, davvero, ma...» Il suo sorriso si fece incerto, allungò una mano verso il piccolo pendaglio d'oro al mio collo. «Alina, l'oscuro non nota quasi nessuna di noi. Noi siamo momenti che dimenticherà nella sua lunga vita e non sono sicura che sia una cosa così negativa. Solo stai attenta». La fissai confusa. «A cosa?» Agli uomini potenti. «Genia», domandai prima di perdere il coraggio. «Cosa c'è stato tra te e il re?» Lei si studiò le punte delle scarpette di raso. «Il re fa quello che vuole con molte domestiche». Poi si strinse nelle spalle. «Almeno ci ho ricavato qualche gioiello». «Non dici sul serio?» «No, infatti». Giocherellò con uno dei suoi orecchini. La parte peggiore è che lo sanno tutti. Le misi un braccio intorno alla vita. Loro non contano. Tu vali più di tutti gli altri messi insieme». Lei fece una debole imitazione del suo sorriso sicuro. «Oh, questo lo so. L'oscuro avrebbe dovuto intervenire. Avrebbe dovuto proteggerti». «L'ha fatto, Alina. Più di quanto immagini. Inoltre anche lui è schiavo dei capricci del re, come tutti noi. Almeno per ora». «Per ora?» Lei mi strinse il braccio un istante. «Non dilunghiamoci su pensieri deprimenti stasera. Vieni», disse. E il suo splendido viso si aprì in un sorriso abbagliante. «Ho un disperato bisogno di champagne». E scivolò spensierata fuori dalla camera. «Io avrei voluto dirle di più. Avrei voluto chiederle che cosa intendesse sull'oscuro. Avrei voluto prendere il re a martellate in testa. Ma aveva ragione. Avremmo avuto un sacco di tempo per i problemi il giorno dopo. Lanciai un'ultima occhiata al piccolo specchio e uscì in tutta fretta nel corridoio, lasciandomi dietro le spalle, le mie preoccupazioni e gli avvertimenti di Genia. La mia cafta nera sollevò un discreto trambusto nella sala della cupola. Marie, Nadia e un gruppo di altri etere alchi, vestiti di velluto e setta blu, si assieparono intorno a me e a Genia. Genia fece per scivolare via come faceva sempre, ma io la strinsi per il braccio. Dal momento che indossavo i colori dell'oscuro, intendevo approfittarne per tenermi accanto la mia amica. Sai che non posso entrare nella sala da ballo con te. Alla regina verrebbe una crisi isterica. Mi sussurrò all'orecchio. D'accordo, ma possiamo sempre camminare fin lì insieme. Lei sorrise raggiante. Mentre percorrevamo il sentiero di Ghiai e ci infilavamo nella galleria formata dai rami, notai che Serghei e diversi altri spacca cuore, stavano tenendo il passo con noi. E mi resi conto con un brivido che ci, o più probabilmente, mi stavano scortando. Aveva senso, considerato quanti estranei giravano nel parco per la festa, ma era comunque sconcertante. Un promemoria che c'era un sacco di gente al mondo che mi voleva morta. Il parco intorno al Gran Palazzo era stato illuminato per mostrare quadri viventi messi in scena da attori e piccole compagnie di acrobati che si esibivano qua e là per gli ospiti. Musicisti mascherati passeggiavano per i sentieri. Ci passarono accanto un uomo con una scimmia sulla spalla e due individui ricoperti di foglie d'oro dalla testa ai piedi che, a cavallo di due zebre, lanciavano composizioni di gioielli a forma di fiori a tutti quelli che incrociavano. Cori in costume cantavano tra gli alberi. Un trio di ballerine dai capelli rossi sguazzava nella fontana con la doppia aquila, vestite quasi solo di conchiglie e corallo, porgevano agli ospiti bassoi pieni di ostriche. Avevamo appena cominciato a salire i gradini di marmo quando apparve un domestico con un messaggio per genia. Lei lesse la nota e sospirò. Il mal di testa della regina è miracolosamente scomparso e lei ha deciso di partecipare al ballo. Mi abbracciò, mi promise di cercarmi prima della dimostrazione, e sgusciò via. La primavera stava appena cominciando, ma non lo si sarebbe mai detto al Gran Palazzo. La musica si diffondeva per i corridoi di marmo. L'aria era stranamente calda e profumata da migliaia di fiori bianchi coltivati nelle serre griscia. Altri fiori ornavano i tavoli e pendevano dalle balaustre in folti grappoli. Io, Maria e Nadia, vagavamo tra gruppi di nobili che fingevano di ignorarci, ma bisbigliavano quando gli passavamo accanto, accompagnate dalla nostra scorta di corporalchi. Io tenevo la testa alta e sorrisi perfino a un giovane aristocratico fermo accanto all'entrata del salone. Mi sorprese vederlo arrossire e abbassare lo sguardo. Lanciai un'occhiata a Maria e Nadia per capire se se ne fossero accorte, ma loro stavano parlottando dei piatti che erano stati serviti a cena ai nobili, lince arrosto, pesche salate e cigno abbrustolito con zafferano. Per fortuna noi avevamo già mangiato. La sala da ballo era ancora più grande e imponente di quella del trono, illuminata da file e file di lampadari scintillanti e piena di gente che beveva e ballava al suono di un'orchestra mascherata seduta lungo una parete. I vestiti, i gioielli, le gocce di cristallo dei lampadari e perfino il pavimento sotto i nostri piedi sembravano brillare, e mi domandai quanto di questo fulgore fosse opera dei fabricator. C'erano anche dei griscia che danzavano tra la folla, ma era facile distinguerli dai colori eccesi delle loro vesti, viola, rosso, blu notte. Sotto la luce dei lampadari spiccavano come fiori esotici sbocciati in un pallido giardino. L'ora successiva fu frastornante. Fui presentata a innumerevoli nobiluomini e alle loro mogli, ad altri ufficiali militari, a cortigiani e persino ad alcuni griscia di nobili casate che erano venuti al ballo come ospiti. Rinunciai presto a ricordare i nomi e mi limitai a sorridere, annuire e inchinarmi, e cercai di trattenermi dallo scrutare tutta la folla in cerca della figura nera dell'oscuro. Assaggiai per la prima volta lo champagne e scoprì che mi piaceva molto più della quass. A un certo punto mi trovai faccia a faccia con un aristocratico dall'aria stanca che si appoggiava a un bastone. «Duca Keramsov», esclamai. Indossava la sua vecchia uniforme di ufficiale con le numerose medaglie appuntate sull'ampio petto. Il vecchio mi guardò con un guizzo di interesse, chiaramente sorpreso che conoscesse il suo nome. «Sono io, Alina Starkov». «Sì, sì, naturalmente», esclamò lui con un vago sorriso. Lo guardai negli occhi, non si ricordava affatto di me. E perché avrebbe dovuto? Ero solo un'orfana tra tanti e anche una decisamente insignificante, ciò nonostante mi sorprese quanto questo mi facesse male. Intrattenni una garbata conversazione per quanto fu necessario e colsi la prima occasione per scappare. Mi appoggiai a una colonna e afferrai un altro bicchiere di champagne dal vassoio di un domestico di passaggio. La sala era sgradevolmente calda. Mentre mi guardavo intorno mi sentia un tratto molto sola. Pensai a male e, per la prima volta, da settimane, provai quella familiare stretta al cuore. Desiderai che potesse vedere il palazzo. Desiderai che mi potesse vedere con la cafta di seta e le forcine d'oro nei capelli. Più di tutto, desiderai semplicemente che fosse accanto a me. Allontanai il pensiero e bevi un lungo sorso di champagne. Che differenza faceva se un vecchio ubriaco non si ricordava di me. Ero contenta che non riconoscesse in me la misera bambina macilenta che ero stata. Vid i geni a farsi strada tra la folla nella mia direzione. Conti, tucchi e ricchi mercanti si voltavano a guardarla passare, ma la Elie ignorò tutti. Non perdete il vostro tempo, avrei voluto dire. Il suo cuore appartiene a un fabricator allampanato a cui non piacciono le feste. È l'ora dello spettacolo, insomma, della dimostrazione. Osservò lei quando mi raggiunse. Perché sei qui tutta sola? Avevo bisogno di una pausa. Troppo champagne? Forse. Stupidina. Ribatte lei, infilando un braccio sotto il mio. Lo champagne non è mai troppo, anche se domani la tua testa cercherà di convincerti del contrario. Mi guidò attraverso la folla, schivando con grazie alla gente che voleva conoscere me o lanciare a lei occhiate lascive, finché non arrivammo dietro il palco allestito lungo la parete di fondo della sala. Ci fermammo accanto all'orchestra a guardare un uomo vestito con un elaborato completo color argento che saliva per presentare i griscia. L'orchestra suonò un accordo d'effetto e gli ospiti applaudirono impazienti mentre gli inferni lanciavano nell'aria archi di fuoco e i chiamatempeste sollevavano vortici di scintille. Un gruppo di scuoti acque coaudiovato dai chiamatempeste evocò un'enorme onda che si schiantò contro la balconata per poi rimanere sospesa qualche centimetro sopra le testa dei presenti. Qualcuno sollevò la mano per toccare il luminoso strato di acqua, poi gli inferni sollevarono le braccia e, con un sibilo, l'onda esplose in un turbine di nebbia. Seguendo un'ispirazione improvvisa, dal lato del palco che mi nascondeva alla vista, mandai una cascata di luce verso la nebbia, generando un arcobaleno che si illuminò brevemente nell'aria. Alina, trasalì. La luce vacillò e l'arcobaleno scomparve. L'oscuro era accanto a me. Come sempre, indossava una kefta nera, anche se questa era di velluto e seta grezza. La luce delle candele si rifletteva sui suoi capelli corvini. De gluti e mi guardai intorno, ma Geni era scomparsa. Ciao, balbettai. Sei pronta? Annui e lui mi accompagnò ai piedi della scala che portava sopra il palco. Mentre la folla applaudiva e i griscia lasciavano la scena, Ivo mi toccò il braccio con il pugno. Bell'intervento, Alina. Quell'arcobaleno è stato perfetto. Io lo ringraziai e poi spostai l'attenzione sulla folla, sentendomi improvvisamente nervosa. Vidi volte attenti, vidi la regina circondata dalle sue dame, l'espressione annoiata. Accanto a lei il re vacillava sul suo trono, visibilmente ubriaco, con l'apparat al suo fianco. I principi reali non si vedevano da nessuna parte, ammesso che si fossero presentati. Con un brivido mi resi conto che l'apparat mi stava fissando e distolsi rapidamente allo sguardo. L'orchestra attaccò un ritmo serrato, increscendo, e l'uomo vestito d'argento balzò di nuovo sulla scena per presentare noi. A un tratto Ivan ci fu accanto per dire qualcosa direttamente nell'orecchio dell'oscuro. Sentì l'oscuro replicare, portali nella stanza della guerra, vi raggiungerò tra poco. Ivan schizzò via, ignorandomi del tutto. Quando si voltò dalla mia parte, l'oscuro sorrideva, gli occhi accesi dall'eccitazione. Qualunque notizia avesse ricevuto, doveva essere buona. Un applauso segnalò che era il momento di entrare in scena. L'oscuro mi prese per il braccio e disse, diamo alla gente quello che vuole. Annui, la gola secca, mentre lui mi conduceva su per la scala fino al centro del palco. Dalla folla provenne un brusio carico d'aspettativa, osservai volti impazienti. L'oscuro mi fece un piccolo cenno del capo. Poi, senza troppi preamboli, batte le mani e nella sala rimbombò un tuono, mentre un'onda scura si riversava sui presenti. Lui aspettò che l'eccitazione del pubblico crescesse. Forse all'oscuro non piaceva che i griscia si esibissero, ma di sicuro sapeva come mettere in piedi uno spettacolo. Solo quando sentì la sala vibrare di tensione, si chinò su di me e sussurrò così piano che solo io potei sentirlo. Adesso, con il cuore che mi batteva forte, stesi il braccio, il palmo all'insù, feci un respiro profondo e richiamai quella sensazione di sicurezza, la sensazione della luce che correva verso di me e attraverso di me, e la concentrai nella mia mano. Dal mio palmo si sprigionò una colonna di luce intensa che squarciò il buio del salone. La folla soffocò un'esclamazione e sentì qualcuno gridare «Allora è vero?». Girai leggermente la mano, inclinandola verso il punto della balconata che mi aveva indicato David, o così speravo. «Ricordati solo di mirare abbastanza in alto e noi ti troveremo», aveva detto. Capì di aver puntato giusto quando il mio raggio di luce raggiunse la balconata e rimbalzò zigzagando per tutta la stanza, riflesso da una serie di specchi prodotti dai fabricator, finché il buio della sala fu tutto solcato da luminosi raggi di sole incrociati. La folla mormorava eccitata. Chiusi il palmo e il raggio scomparve, poi feci sbocciare la luce intorno a me e all'oscuro, avvolgendoci in una sfera simile a un morbido alune dorato. Lui mi guardò e stese la mano. Nastri neri di oscurità attraversavano la luce, curvando e torcendosi. Io intensificai la luminosità della sfera, espandendola, godendomi il piacere che mi dava il mio potere, lasciandolo giocare tra le mie dita mentre l'oscuro creava filamenti colori inchiostro e li faceva danzare nella luce. La folla applaudì e l'oscuro mormorò piano. Ora, fagli vedere. Io sorrisi ed esegui la mossa che mi era stata insegnata. Allargai di scatto le braccia, sentendo schiudersi l'intero mio essere, poi battei le mani. Un rombo scosse il salone e una brillante luce bianca esplose con un sibilo sopra la folla, che gridò e chiuse gli occhi, schermandosi con le mani. Sostenni la luce per diversi secondi, poi riapri le braccia e la lasciai spegnere. Il pubblico applaudì fragorosamente, battendo le mani e pestando i piedi per terra. Noi ringraziamo con un inchino mentre l'orchestra riprendeva a suonare e l'applauso stemperava in un chiacchiericcio eccitato. L'oscuro mi tirò verso il lato del palco e sussurrò. Li senti? Li vedi come ballano e si abbracciano? Ora sanno che le voci erano vere, che tutto sta per cambiare. La mia euforia diminuì un poco sentendo l'incertezza insinuarsi dentro di me. Ma non stiamo dando a questa gente false speranze? No Alina, ti ho detto che tu eri la mia risposta e lo sei, ma dopo quello che è successo sul lago, arrossì violentemente e mi affrettai a specificare, nel senso che hai detto che non sono abbastanza forte. Un guizzo sulla bocca dell'oscuro suggerì un sorriso, ma i suoi occhi rimasero seri. Davvero hai pensato che avessi finito con te? Un fremito mi attraversò la schiena. Lui mi fissò. Il mezzo sorriso si spense. Mi prese bruscamente per il braccio e mi tirò giù dal palco. Tra la folla, la gente si congratulava con noi, allungava le mani per toccarci, ma lui richiamò una pozza di oscurità che si spostava e svaniva dopo ogni nostro passaggio. Era quasi come essere invisibili. Colsi alcuni stralci di conversazione mentre scivolavamo tra i capannelli di invitati. Io non ci credevo. Un miracolo. Mai fidato di lui, ma è finita, è finita. Sentivo gente che rideva e che piangeva. Questo rinnovò la mia inquietudine. Quelle persone erano convinte che potessi salvarle. Che cosa avrebbero pensato quando avessero scoperto che ero buona solo per qualche esibizione da salotto. Ma queste considerazioni non erano che vaghi sfarfallii. Era difficile pensare ad altro se non al fatto che, dopo avermi ignorato per settimane, l'oscuro mi teneva per mano e mi stava tirando verso una stretta porta in un corridoio deserto. Ridacchiai eccitata quando ci infilammo dentro una stanza vuota, illuminata solo dalla luce della luna che filtrava dalle finestre. Ebbi a malapena il tempo di registrare che era il salottino in cui ero stata portata tempo prima per incontrare la regina, perché non appena la porta si chiuse, lui mi baciò e non riuscì a pensare a nient'altro. Ero già stata baciata in passato. Errori da ubriaca, contatti maldestri. Stavolta non era niente del genere. Era un bacio sicuro e potente, a cui il mio corpo rispose come se si fosse appena risvegliato. Sentivo il battito del mio cuore, sentivo la seta sulla mia pelle, le sue braccia forti intorno a me, una mano affondata nei miei capelli, l'altra sulla schiena con cui mi attirava a sé. Nel momento in cui le sue labbra incontrarono le mie e si creò la connessione tra noi, sentii il suo potere pervadermi. Percepivo l'intensità del suo desiderio, ma dietro il desiderio percepivo anche qualcos'altro, un'emozione che sembrava rabbia. Mi ritirai spaventata. Tu non lo vuoi, davvero, questo? È l'unica cosa che voglio fare, ringhiò lui, e io senti il rancore e desiderio intrecciarsi nella sua voce. Ma questo ti fa infuriare, dissi, comprendendo a un tratto. Lui sospirò e si appoggiò a me, scostandomi i capelli dal collo. Forse sì, mormorò, le sue labbra che mi sfioravano l'orecchio, la gola, la clavicola. Rabrividii e lasciai ricadere indietro la testa, ma dovevo chiederlo. Perché? Perché? Ripetè lui, le labbra che ancora sfioravano la mia pelle, le sue dita che scivolavano sopra i nastri della mia scollatura. Alina, sai che cosa mi ha detto Ivan prima che salissimo sul palco? Stanotte abbiamo ricevuto notizia che i miei uomini hanno individuato il branco di Morozova. La risposta alla faglia d'ombra è finalmente a portata di Manui. In questo momento io dovrei essere nella stanza della guerra ad ascoltare il loro rapporto. Dovrei essere impegnato a pianificare il viaggio verso nord, ma non lo sto facendo, giusto? La mia mente si era spenta, abbandonandosi al piacere del corpo nell'attesa di scoprire dove si sarebbe posato il suo bacio successivo. Giusto? Ripetè lui, mordicchiandomi il collo. Io trattenne il fiato e scossi la testa, incapace di pensare. Poi lui mi sollevò e mi spinse contro la porta, le labbra premute sulle mie. Il problema del desiderio sussurrò e la sua bocca si spostò sul mio mento per poi fermarsi a un soffio dalle mie labbra. E che ci rende deboli. E poi, finalmente, quando pensavo di non poter resistere un istante di più, abbassò di nuovo la bocca sulla mia. Questo bacio fu più intenso, vibrante della rabbia che ancora sentivo dentro di lui. Non mi importava, non mi importava che mi avesse ignorato o che mi mandasse in confusione, né dei vaghi avvertimenti di genia. Aveva trovato il cervo, aveva avuto ragione su di me, aveva avuto ragione su tutto. La sua mano scese verso il mio fianco. Con un brivido di panico sentii la gonna scivolare su e le sue dita schiudersi sulla mia coscia nuda. Ma invece di tirarmi indietro, mi strinsi ancora di più a lui. Perché in quel momento sentimmo un'esplosione di voci chiassose. Un gruppo di persone molto rumorose e molto ubriache avanzava sbandando lungo il corridoio. qualcuno sbatté pesantemente contro la porta e cominciò a scuotere la maniglia. Impietrimmo. L'oscuro spinse la spalla contro la porta perché non si aprisse e il gruppo passò oltre, gridando e ridendo. Nel silenzio che seguì ci fissammo. Poi lui sospirò e abbassò la mano, lasciando ricadere la mia gonna di seta. Devo andare, mormorò. Ivan e gli altri mi stanno aspettando. Annui, non fidandomi di parlare. Lui si allontanò di un passo. Io mi scostai e lui si ho chiuso la porta per controllare che il corridoio fosse vuoto. Non tornerò alla festa, disse. Ma tu dovresti farlo, almeno per un po'. Annui di nuovo. Tutto a un tratto mi resi conto con sgomento che mi trovavo in una stanza buia con un uomo quasi sconosciuto e che solo pochi momenti prima avevo la gonna sollevata fin quasi alla vita. Nella mente mi apparve il viso severo di Anna Cunia che mi faceva una paternale sugli stupidi errori delle ragazze di campagna e arrossì per l'imbarazzo. L'oscuro scivolò fuori dalla porta ma poi si voltò. Alina, disse, come lottando contro se stesso. Posso venire da te stanotte. Esitai. Se avessi detto sì non mi sarei più potuta tirare indietro. La pelle ancora scottava dove mi aveva toccato ma l'eccitazione di un momento prima andava spegnendosi e stavo recuperando un po' di buonsenso. Non ero sicura di sapere cosa volevo. Non ero più sicura di niente. Aspettai troppo a lungo. Sentimmo altre voci avvicinarsi nel corridoio. L'oscuro si tirò dietro la porta e si allontanò a lunghi passi nel corridoio mentre io mi tiravo nell'ombra. Aspettai nervosa cercando di inventarmi una scusa per spiegare perché era nascosta dentro una stanza vuota. Ma le voci passarono oltre e io buttai fuori un lungo respiro tremante. Non avevo avuto la possibilità di rispondere né sì né no all'oscuro. Sarebbe venuto comunque. Desideravo che lo facesse. I miei pensieri vorticavano. Dovevo rimettermi in ordine e tornare alla festa. All'oscuro bastava scomparire ma io non potevo permettermi quel lusso. Sbirciai nel corridoio e mi affrettai a tornare nella sala da ballo fermandomi a controllare il mio aspetto in uno degli specchi dorati. Non ero poi così scompigliata come avevo temuto. Avevo le guance arrossate e le labbra un po' gonfie ma non ci potevo fare niente. Mi lisciai i capelli e mi raddrizzai la kefta. Mentre stavo per entrare nel salone sentì una porta aprirsi all'altra estremità del corridoio. L'apparat stava venendo a passo svelto verso di me. La veste marrone che gli sventolava dietro. Oh per favore non ora. Alina mi chiamò. Devo tornare al ballo. Dissi io in tono festoso e mi voltai dall'altra parte. Devo parlarti. Le cose stanno procedendo molto più rapidamente di quanto. Mi rituffai nella festa cercando di assumere un'espressione serena. Fu immediatamente circondata da nobili che desideravano conoscermi e congratularsi per la mia dimostrazione. Serghei mi raggiunse di corsa insieme alle altre guardie spaccacuore mormorando parole di scusa per avermi perso nella folla. Guardandomi alle spalle fui sollevata nel vedere che la figura cenciosa dell'apparat veniva sommersa da un flusso di invitati. Feci del mio meglio per partecipare educatamente alle conversazioni e rispondere alle domande che mi ponevano gli ospiti. Una donna aveva le lacrime agli occhi e mi chiese di benedirla. Non avevo idea di cosa fare per cui le diedi un buffetto sulla mano sperando di risultare rassicurante. Tutto quello che desideravo era restare sola a pensare per riordinare la massa confusa di emozioni nella mia testa. Lo champagne non aiutava. Mentre un gruppo di ospiti si allontanava per essere subito sostituito da un altro riconobbi la faccia lunga e malinconica del corpo ralchi che aveva viaggiato con me e Ivan nella carrozza dell'oscuro e che aveva contribuito a respingere l'attacco degli assassini ferdiani. Mi sforzai di ricordare il suo nome. Lui mi venne in aiuto presentandosi con un profondo inchino. Fedior Kaminsky. Perdonami, dissi, è stata una notte lunga. Posso solo immaginarlo. Spero di no, pensai con una punta d'imbarazzo. A quanto pare l'oscuro aveva ragione, dunque, disse lui con un sorriso. Prego? Chiesi con voce stridola. Eri così sicura di non poter essere una griscia. Restituì il sorriso. Cerco di non perdere mai l'abitudine di prendere solenni cantonate. Fedior non ebbe nemmeno il tempo di raccontarmi del suo nuovo incarico sul confine meridionale che fu trascinato via da un'altra ondata di ospiti impazienti di scambiare una parola con l'evoca luce. Non riuscì neanche a ringraziarlo per avermi salvato la vita quel giorno nella valle. Mi sforzai di parlare e sorridere ancora per un'ora circa, ma non appena ebbi un momento libero dissi alle mie guardie che volevo ritirarmi e mi diressi decisa verso l'uscita. Una volta fuori mi sentii meglio. L'aria notturna era fredda, per fortuna, e le stelle brillavano nel cielo. Feci un respiro profondo. Mi sentivo frastornata e spossata e i miei pensieri continuavano a rimbalzare tra l'eccitazione e l'ansia. Se l'oscuro fosse venuto in camera mia quella notte, che cosa avrebbe significato? L'idea di essere sua mi procurò un brivido. Non credevo fosse innamorato di me e non avevo idea di che cosa provavo io per lui, ma mi desiderava e forse questo bastava. Scrollai la testa, cercando di dare un senso a tutto. I suoi uomini avevano trovato il cervo. Avrei dovuto pensare a quello, al mio destino, al fatto che avrei dovuto uccidere una creatura antica, al potere che mi avrebbe dato e alla responsabilità che comportava. Invece non riuscivo a pensare ad altro che alle mani dell'oscuro sui miei fianchi, alle sue labbra sul mio collo, alla tensione del suo corpo slanciato nell'ombra. Ispirai un'altra boccata di aria notturna. La cosa più ragionevole sarebbe stata chiudere a chiave la porta e andare a dormire, ma non ero sicura di voler essere ragionevole. Quando raggiungemmo il piccolo palazzo, Sergei e gli altri mi lasciarono per tornare al ballo. La sala della cupola era silenziosa, i fuochi nelle stufe di maiolica erano stati smorzati con la cenere, le luci delle lampade erano soffuse e dorate. Mentre mi dirigevo verso la scala principale, le porte intagliate dietro al tavolo dell'oscuro si aprirono. Mi nascosi frettolosamente nel buio. Non volevo che sapesse che me ne ero andata presto dalla festa e non ero ancora pronta a rivederlo, ma era solo un gruppo di soldati che attraversò il salone d'ingresso per uscire dal piccolo palazzo. Mi domandai se fossero gli uomini che erano venuti a riferire la posizione del cervo, quando la luce di una lampada cadde sull'ultimo soldato del gruppo. Quasi mi si fermò il cuore. Mal! Non appena lui si voltò, mi sentii iliguefare dalla felicità nel vedere il suo volto familiare. Una piccola porzione della mia mente annotò la sua espressione fredda, ma l'osservazione si perse nella gioia estrema che provavo. Attraversai la sala di corsa, gli gettai le braccia al collo, quasi buttandolo a terra. Lui riprese l'equilibrio e staccò le mie braccia dal suo collo lanciando un'occhiata agli altri soldati, che si erano fermati a guardarci. Sapevo che forse l'avevo messo in imbarazzo, ma non mi importava. Stavo letteralmente saltellando, ballando dalla contentezza. Andate, disse lui agli altri. Vi raggiungo. Qualcuno sollevò un sopracciglio, ma tutti scomparvero oltre il portone, lasciandoci soli. Aprì la bocca per parlare, ma non sapevo bene da dove cominciare, così mi accontentai della prima cosa che mi venne in mente. Che cosa ci fai qui? Vorrei saperlo anch'io. Rispose lui con una stanchezza che mi sorprese. Dovevo fare rapporto al tuo padrone. Al mio cosa? Poi capii e sorrisi. Sei stato tu a trovare il branco di Morozova. Avrai dovuto immaginarlo. Lui non ricambiò il mio sorriso. Non mi guardò neanche negli occhi. Si voltò dall'altra parte e disse. Devo andare. Lo fissai in credula. Il mio entusiasmo che si spegneva. E così avevo ragione. Mal l'aveva chiuso con me. Tutta la rabbia e l'imbarazzo che avevo provato negli ultimi mesi mi precipitarono addosso. Scusa, replicai gelida, non mi ero accorta che ti stavo facendo perdere tempo. Non ho detto questo. No, 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 comprendo. Non ti prendi il disturbo di rispondere alle mie lettere perché dovresti fermarti qui a parlare con me mentre i tuoi veri amici ti aspettano. Lui aggrottò la fronte. Non ho ricevuto nessuna lettera. Certo, dissi io con rabbia. Lui sospirò e si passò una mano sulla faccia. Dobbiamo muoverci in continuazione per seguire il branco. La mia unità praticamente non è più in contatto neanche con il reggimento. C'era una tale stanchezza nella sua voce. Per la prima volta lo guardai. Lo guardai davvero. E vidi quanto era cambiato. C'erano ombre sotto i suoi occhi azzurri. Una cicatrice irregolare gli correva lungo il mento non rasato. Era ancora mal ma c'era qualcosa di indurito in lui. Qualcosa di freddo e sconosciuto. Non hai ricevuto nessuna mia lettera? Lui scossa la testa, sempre con quell'espressione distante. Non sapevo cosa pensare. Mal non mi aveva mai mentito prima e, nonostante tutta la mia rabbia, non pensavo mi stesse mentendo ora. Esitai. Mal, io, non puoi fermarti un po' di più. Sentii il tono di supplica nella mia voce. Lo odiai, ma odiavo ancora di più il pensiero che se ne andasse. Non immagini cosa sia vivere qui. Lui fece una brusca risata. Non ho bisogno di immaginare. Ho visto la tua piccola dimostrazione nel salone. Davvero notevole. Mi hai visto? Esatto. Disse lui con durezza. Sai quanto mi sono preoccupato per te. Nessuno sapeva cosa ti era successo, che cosa ti avevano fatto. Non c'era modo di mettersi in contatto con te. Girava persino voce che ti stessero torturando. Quando il capitano ha avuto bisogno di uomini per fare rapporto all'oscuro. Come un idiota mi sono fatto tutto il viaggio fin qui solo nella speranza di trovarti. Davvero? Facevo fatica a crederlo. Mi ero ormai abituata all'idea che a Mal non importasse più di me. Sì, rispose lui a denti stretti. Ed eccoti qui, sane e salva, che danzi e flerti come una principessina viziata. Non rimanerci così male, ammise stizzita. Sono certa che l'oscuro può procurarmi una graticola e dei carboni ardenti se ti può far sentire meglio. Mal si accigliò e si allontanò di un passo da me. Lacrime di frustrazione mi bruciavano gli occhi. Perché stavamo litigando? Disperata allungai una mano per prendergli il braccio. I suoi muscoli si tesero, ma lui non si scostò. Mal, non posso farci niente se le cose qui sono come sono. Non ho chiesto niente di tutto questo. Lui mi fissò, poi distolse lo sguardo. Sentì parte della sua tensione defluire. Alla fine disse, lo so. Ancora percepì quella terribile stanchezza nella sua voce. Che cosa ti è successo, Mal? Sussurrai. Lui non rispose. Lo sguardo perso nel buio della sala. Io sollevai la mano e la posai sulla sua guancia ispida, girandogli delicatamente il viso verso di me. Dimmelo. Lui chiuse gli occhi. Non posso. Passai i polpastrelli sul rilievo della cicatrice sul suo mento. Genia te la può mettere a posto questa. Lei sa. Capì all'istante di aver detto la cosa sbagliata. Lui aprì gli occhi di scatto. Non ho bisogno di mettere a posto niente. Mi interruppe. Non intendevo. Lui afferrò la mia mano e se la allontanò dalla faccia. Ma la tenne stretta. Gli occhi azzurri che scavavano nei miei. Sei felice qui, Alina? La domanda mi colse di sorpresa. Io non lo so. A volte. Sei felice qui con lui? Non era necessario chiedere a chi si riferisse. Aprì la bocca per rispondere, ma non avevo idea di cosa dire. Indossi il suo emblema. Osservo a lui, spostando lo sguardo sul piccolo ciondolo d'oro che mi pendeva il collo. Il suo emblema e il suo colore. Sono solo vestiti. Le labbra di Mal si torsero in un sorriso cinico. Un sorriso così diverso da quello che conoscevo e che amavo che quasi trasalì. Non lo pensi davvero? Che differenza fa che cosa indosso? I vestiti, i gioielli, persino il tuo aspetto. Tutto di te parla di lui. Queste parole mi colpirono come uno schiaffo. Nel buio della sala sentì un imbarazzante rossore salirmi alle guance. Liberai la mano dalla sua e incrociai le braccia sul petto. Non è così, susurrai, ma non cercai il suo sguardo. Mi sentivo come se potesse vedermi dentro, come se potesse strapparmi dalla testa ogni pensiero appassionato che avessi mai avuto sull'oscuro. Ma la vergogna fu seguita a ruoto dalla rabbia, e anche se avesse saputo, che diritto aveva di giudicarmi? Quante ragazze aveva abbracciato, mal nel buio. Ho visto come ti guardava. Mi piace il modo in cui mi guarda. Quasi gridai. Lui scosse la testa, con lo stesso sorriso crudele. Avrei voluto toglierglielo con uno schiaffo. Ammettilo. Mi disse sprezzante. Ti possiede. Possiede anche te, mal, ribattei. Possiede tutti noi. Queste parole gli cancellarono il sorriso. No, non è vero. Rispose con furia. Non me. Mai. Ah, davvero? Non devi andare da qualche parte, mal? Non hai ordini da eseguire? Lui raddrizzò la schiena. L'espressione fredda. Sì, ammise. Sì, ce li ho. Si voltò di scatto e uscì. Per un momento rimasi immobile, tremante di rabbia, ma poi corsi alla porta. Arrivata all'ultimo gradino, mi fermai. Le lacrime, che avevano minacciato di uscire, infine traboccarono, scorrendomi sulle guance. Avrei voluto corrergli dietro, rimangiarmi le mie parole, pregarlo di restare. Ma avevo passato tutta la vita a correre dietro a mal, per cui rimasi in silenzio e lo lasciai andare.